Buongiorno a tutti, sono Riccardo Merelli, ho 34 anni, sono il vostro coach e questo è un nuovo video. Non ci siamo visti per un po' di tempo perché sono stato influenzato, ammalato e diciamo che ancora ne porto un po' i segni. Però almeno posso parlare senza rischiare di soffocare, ecco. E quindi è per questo che in occasione del mese anche del Pride, di cui parleremo però giusto a livello di accenno, riesco a ritornare con un nuovo video. Ho parlato del mese del Pride essendo io per prima persona gay e specifico questa cosa anche in argomento coaching perché questo video potrebbe un giorno essere visualizzato da una persona gay che magari non è ancora pronta a rivelare questo dettaglio di sé agli altri ecco sappi che nelle mie sessioni vige il segreto professionale per cui se tu non vuoi ancora rivelare agli altri la tua sessualità io non sono tenuto a dirla a nessuno, uno dei tanti motivi per cui lavoriamo con persone maggiorenne ma veniamo all'argomento del video che avrete a questo punto visto scritto sul titolo stavo parlando con un amico e a un certo punto mi ha chiesto nello specifico di fargli una domanda proveniente dalle carte vertelli vi dico brevemente cosa sono anticipando che però purtroppo sono difficilissime da trovare online soprattutto in italiano io ho la versione in inglese non oso prenderla perché è fuori portata le carte vertelli sono descritte in inglese con le parole less small talk more meaningful conversation cosa significa? meno conversazione spicciola il classico parlare del tempo per intenderci più conversazioni significative e contengono delle domande alle quali sembra che sia abbastanza difficile non rispondere io non faccio testo perché sono un libro aperto nella vita però devo dire che le persone a cui ho posto le domande finora non si sono ancora sottratte dicevo appunto che questo mio amico voleva che io gli ponesse una domanda dalle carte vertelli e la domanda che adesso non ho davanti suonava più o meno come chi è la persona che nell'ultimo anno appena trascorso ti ha ispirato di più lui mi ha dato la sua risposta che qui non lo riporterò per privacy ma quella su cui voglio concentrarmi è che ha girato la domanda a me e nel momento in cui ci ho pensato mi sono sentito in difficoltà e vi spiego il motivo secondo me il motivo è influenzato dal mio personale concetto di ispirazione quindi quello che sento il bisogno di fare questa volta è di portare un concetto un po' personale sempre in termini però di coaching mi spiego ho sempre visto l'ispirazione come un qualcosa di da emulare ecco e l'idea di emulare però mi porta ad una sorta di idealizzazione della persona stessa che non tiene conto dei difetti che tutti abbiamo del nostro essere umani ecco e quindi se ad esempio io fossi fonte di ispirazione ai livelli ai quali mi hai detto mi sentirei in difficoltà dicevo che trovando il fatto dell'ispirazione collegato all'idealizzazione proprio a stretto giro mi sentirei in dovere di non sbagliare un colpo e il fatto di dover passare attraverso una sorta di imitazione mi va in contrasto ecco con quello che io promuovo quando lavoro ovvero la persona come unicità come valore come amante di se stesso padrone di se stesso con i suoi bisogni i suoi valori le sue toleration e tutto quello che c'è attorno all'integrità attorno alla costruzione della persona quindi il concetto di ispirazione in una parola cozza con i valori in cui credo e che cerco di trasmettere attraverso il coaching la mia idea di ispirazione è quella di una persona che io voglio imitare e quindi nel momento in cui fa qualcosa di mettiamo tra virgolette sbagliato ci delude perché fino a quel momento era la persona perfetta non so se sono riuscito a spiegarmi ma prima di salutarci come al solito giro la domanda a voi nell'arco del 2023 che è l'anno appena trascorso chi è la persona che vi ha ispirato di più se c'è e soprattutto cosa ne pensate dell'ispirazione credete in questo concetto oppure come me vi ponete il dubbio che all'interno dell'ispirazione ci sia l'idealizzazione di una persona perfetta che non può sbagliare perché altrimenti ci delude e ci fa crollare un castello un mito che abbiamo costruito negli anni aspetto la vostra risposta qui sotto nei commenti spero che il video sia stato di vostro gradimento di vostro intrattenimento vi saluto vi ricordo che nel box informazioni trovate tutti i miei social per contattarmi oppure eventualmente per prenotare una consulenza di coaching che è sempre gratuita essendo la prima consulenza quindi io vi saluto di nuovo e vi dico al prossimo video ciao